Nella prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, libro dove viene narrato l'inizio della Chiesa, ci viene raccontato senza paura né vergogna che anche nella Chiesa, poiché è fatta di uomini, c'è il rischio della chiusura. Infatti sappiamo che all'inizio gli Apostoli, Pietro in testa, erano convinti che il messaggio di Gesù fosse destinato solo al popolo ebraico e non ai pagani. Leggiamo infatti che i discepoli, che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano, erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e non proclamavano la parola nessuno forché ai giudei. Però vediamo che all'interno della Chiesa c'è chi tenta un'apertura anche verso i pagani e la spinta poi decisiva la darà soprattutto San Paolo. Leggiamo sempre nel brano, ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche i greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro e così un grande numero credette si convertì al Signore. Ora, il rischio di chiuderci è in agguato ovunque, in ogni situazione, sul lavoro, nutriendo dei pregiudizi verso le persone, pensando che è meglio occuparci di noi piuttosto che degli altri, nutriendo di fidenza verso il prossimo, verso chi è diverso da noi per cultura, per idee, per nazionalità, per credo religioso. Ma a volte sorgono chiusure anche nelle famiglie, tra parenti. Tanto più se ci diciamo cristiani non possiamo essere persone chiuse e la Chiesa non può essere un luogo chiuso. Come ricordavo il giorno di Pasqua, Gesù non è morto solo per qualcuno, ma per tutti. La sua resurrezione è per tutti, il suo perdono è per tutti, la sua salvezza è per tutti, la sua presenza è per tutti. Perciò, se ci diciamo seguaci di Cristo, cioè cristiani, se diciamo di tentare di seguire il suo insegnamento, il suo cammino di ispirarci a Lui, non possiamo essere persone chiuse e quando ci viene la tentazione di farlo occorre invocare lo Spirito Santo, che è la persona della Trinità più adatta da invocare per uscire da noi stessi. Allora chiediamoci oggi, nei confronti di chi c'è chiusura? E là dove avvertiamo maggiori chiusure nella nostra vita, chiediamo allo Spirito Santo di aprirci. Buona giornata.